Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il team manager Vincenzo Fiorini ha comunicato le sue dimissioni dall'incarico. Arrivato in casa Amaranto il 31 agosto di un anno fa, Fiorini ha ricevuto sui social molti messaggi affettuosi da parte dei giocatori e dei collaboratori conosciuti durante la sua permanenza ad Arezzo. Nel suo comunicato Fiorini ricorda che l'esperienza vissuta con Giamaranto è stata comunque positiva, nonostante il brutto esito del campionato scorso. Scrive Fiorini, oggi mi sono dimesso dalla carica di team manager dell'Arezzo Calcio, nonostante la retrocessione e le problematiche legate all'emergenza Covid è stata un'esperienza bellissima. Ringrazio tutte le persone con cui ho collaborato e che fin da subito mi hanno fatto sentire a casa. Fiorini ringrazia in particolare la proprietà, gentile, manzo, selvaggio e anche il direttore generale Muzzi. Il messaggio termina con uno slogan, Forza Arezzo sempre!